Hai impressionato subito tanto nel precampionato Cuppone, tanta rapidità, tanta voglia di far bene, trovi spesso la porta, diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino ci siamo. Diciamo che ci siamo perché ho tanta voglia di continuare a dimostrare, continuare a far bene e sono contento di essere venuto qui, ho tanta voglia e spero di contribuire a realizzare i nostri obiettivi. Quanto è veloce Cuppone in campo? Quanta passione ci mette, quanta voglia, sì, tanta. Quanto sei veloce? È una delle mie armi, sì dai. Allora, diciamo che nell'attacco a tre o con il trequartista alle tue spalle puoi giocare in tutti i ruoli, ma se potessi scegliere tu la tua posizione preferita? Già, ne abbiamo parlato con il mister, come ho detto prima, mi piace mettermi a disposizione davanti, posso giocare un po' dappertutto perché riesco ad adattarmi facilmente in campo, quindi per il mister mi metto a disposizione. Ma se potessi scegliere tu? No, nell'attacco a due mi trovo benissimo oppure come esterno d'attacco a tre va bene. Con la Casertana e con il Potenza, quindi in questa categoria negli ultimi due anni hai fatto tantissimi gol e ti sei dimostrato giocatore di spessore. Con il Cittadella in vino ne è andato bene? Il tuo sogno magari è ritornarci con questa maglia? Sì, è proprio così, il mio sogno è quello di ritornarci con la maglia del Pescara che sarebbe un traguardo per me e un ritorno in categorie dove merita il Pescara. Mi dici solo quando il tuo procuratore ti ha detto che c'era la possibilità di andare a titolo definitivo al Pescara, ci hai pensato, hai visto se c'era qualcosa in via oppure hai detto subito sì? No, quando ci sono queste piazze in queste categorie non si guarda la categoria perché il Pescara sappiamo tutti dove merita di stare quindi spero di essere uno dei protagonisti della cavalcata per portarla di nuovo dove merita.